Sindaco, la delibera è stata ritirata, cosa è successo oggi in aula? È successo quello che purtroppo accade da qualche mese in città, cioè c'è una parte della maggioranza anche con figure istituzionali come il Presidente del Consiglio Comunale che decidono di non partecipare per questioni politiche che però in realtà non vengono trattate, non sono state ancora trattate su nessun tavolo perché nessuno mi ha chiesto di partecipare a un tavolo per ridiscutere le deleghe degli assessori e anzi io ho dato disponibilità soprattutto a coloro che oggi non c'erano di rivedere le deleghe così come mi era stato richiesto, quindi l'atteggiamento di stamattina è davvero poco comprensibile. Per il bene della città io ho ritenuto di ritirare la delibera, quindi di non far commissariare ancora una volta abbiamo rischiato questo il Comune, riproporremo nello stretto tempo che abbiamo a disposizione che il 13 di agosto la delibera, se in quel caso ci saranno i numeri allora si andrà avanti altrimenti, ahimè, dovremo chiudere questo capitolo ma credo anche, lo dico con estrema serenità che è forse meglio chiuderlo piuttosto che stare ai ricatti di qualcuno. Ma nello specifico la delega della Dibiase è una di quelle che lei è disposto a cambiare oppure una di quelle inamovibili? Quelle inamovibili sono quelle degli assessori esterni, a meno che non mi dimostrino che c'è un assessore alle finanze più bravo di quello che ho e che quindi mi fa avere gli stessi bilanci con parere positivo, cosa che non è successo fino ad oggi, o se c'è un assessore alle politiche della casa che invece di farmi finire sui giornali perché ci sono degli scandali mi fa finire invece sui giornali come è capitato oggi perché noi togliamo dalle case coloro che non hanno diritto e diamo le case a coloro che hanno diritto. Le altre deleghe sono tutte quante a disposizione della politica. Da parte degli assessori sono arrivate a lei delle dimissioni? Sì, questa mattina gli assessori con un gesto politico direi ma anche di grande responsabilità hanno rimesso le proprie deleghe a me e io questa mattina stessa avevo anche dato mandato alla segretaria comunale di provvedere a fare il decreto per l'assegnazione a me, la vocazione a me delle competenze di quelle dimissioni. Certo quel gesto di grande responsabilità a quel gesto di grande responsabilità non è corrisposto ovviamente un medesimo gesto di responsabilità di chi avrebbe dovuto venire in aula, approvare il consultivo e poi sedersi al tavolo per discutere delle deleghe.